Sì Presidente, approfitto, chiaramente non può essere che questa la sede per dare un contributo sul tema, visto anche la presenza dell'assessore Cupparo, mi sembra opportuno investire cinque minuti per commentare questo disegno di legge che è un bilancio di previsione 2022-2024, quindi ha un orizzonte temporale, triennale e chiaramente rivesta la sua importanza. Purtroppo devo sottolineare quello che ho sottolineato in sede di audizione alla presenza del direttore dell'Alsia, che continua a mancare in questi bilanci e in questo bilancio anche una dose di coraggio rispetto anche ad una prospettiva che un'agenzia importante come l'Alsia deve avere. Poteva essere giustificato all'inizio di questa legislatura, conoscere le capacità, le potenzialità di un'agenzia, poteva essere giustificato l'anno successivo perché bisognava riorganizzare in qualche modo, secondo le linee della nuova compagine del governo regionale, la direzione, si doveva immaginare cosa poter fare di più e di meglio in un'Alsia che soprattutto nel passato l'opposizione, oggi maggioranza, criticava tantissimo nelle sue attività e anche nella modalità di sostenere il comparto agricolo. Mi sono messo lì buono a leggere i documenti, ad attendere un cambio di rotta, addirittura la riforma in qualche modo ne aveva provato ad annunciare fuochi e fiamme, di fatto da questo bilancio ancora una volta c'è poco niente di nuovo, c'è molto di vecchio, c'è molto di tutto quello che in qualche modo è stato fatto negli anni passati come agenzia in termini di coinvolgimento nelle filiere, nei progetti di ricerca, tutti i progetti che chiaramente l'agenzia sta continuando a svolgere, ma non c'è niente di prospettiva. Ho provato da anni, e lo ripeto oggi, così rimano agli atti, intanto che nonostante i tanti soldi a disposizione da parte della regione basilicata, in questo bilancio regionale non è stato riservato ad Alzia nessuna posta aggiuntiva, quindi all'Alsia non vengono date le risorse, se non quelle giuste per vivere, per pagare gli stipendi, sia dell'esistente organico che è quello riveniente da Agrobios, ma non vengono assegnate risorse aggiuntive per fare il salto di qualità di quell'agenzia, pur oggi avendo tante risorse economiche a disposizione, così come state dicendo e state annunciando a pie pari. Non c'è nessuna idea e nessuna volontà di valorizzare una legge regionale che sta lì ferma da anni, anzi due leggi regionali, che stanno lì ferme da anni e che hanno protagonista esattamente il dipendimento. Nessuno Ah 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 Non è un atto tecnico, poi dico voi non avete anche dopo tre anni e mezzo, io non lo so, il bilancio, no no sto sono calmissimo Presidente, il bilancio, il bilancio, così come c'è il bilancio della regione, c'è il bilancio degli enti, nel bilancio triennale c'è esattamente attuare le politiche, questo succede nel bilancio regionale, succede nel bilancio degli enti, se non è in questi atti, in quali atti dobbiamo discutere noi di politiche? me lo volete dire o no? No, non è per il, no, è la motivazione che il collega Goviello mi dice, stiamo parlando del bilancio, e proprio ora dobbiamo parlare di politiche. avevo chiesto e chiedo all'assessore di avere un'attenzione particolare in questa fine legislatura, al netto se c'è o non c'è scritto in questo bilancio, che chiaramente prima di essere portato in giunta viene concordato con il Dipartimento, questo è prassi, la banca della terra e la legge sulla banca della terra e la legge sull'agricoltura sociale, sono due leggi che esistono in questa regione che sono totalmente disattese, sono due leggi che significa utilizzare e valorizzare il patrimonio agricolo regionale delle terre incolte e c'è una modalità, esatto, stavo esattamente dicendo questo, è una delle leggi che è stata proposta da Cinque Stelle, è approvata nella passata legislatura nonostante Cinque Stelle erano all'opposizione anche allora, ed è una legge importante che va valorizzata, ma in questi quattro anni niente è stato fatto, e sull'agricoltura sociale è una legge del 2019 sulla quale legge purtroppo nessun passo in avanti è stato realizzato, nessuna risorsa è stata destinata, nessuna azione di valorizzazione di quel comparto che riguarda gli agriturismi in generale, non per la funzione che hanno rispetto al tema del turismo, ma di funzione che possono insieme alle fattorie didattiche svolgere per le attività sociali delle comunità a cui si rivolgono nei territori dove le stesse insistono. Non ci sono compiti che in genere l'agenzia di sviluppo ha nel suo DNA, ne avevo raccomandate da tre anni un impegno da questo punto di vista, io spero che la determinazione di Cupparo possano essere più forieri di risultati rispetto alla gestione Fanelli, lo dico perché oggettivamente su questi punti non c'è stato un minimo avanzamento. E qual è il terzo punto che pongo all'attenzione dell'assessore Cupparo? La regione Basilicata si avvia a gestire una nuova programmazione 2023-2027, diciamo affari spenti ancora una volta. Noi nella passata legislatura abbiamo fatto un investimento poderoso sul sistema informativo regionale, del SIERB, che molto bene funziona nel Dipartimento e sta dando grande aiuto all'istruttoria dei bandi e grande aiuto alla gestione, alla valutazione di dove questi finanziamenti vengono indirizzati, con quale efficacia, con quale efficienza, tutte informazioni e dati che prima senza il sistema non si riuscivano a recuperare. Quindi si può fare una bella analisi, diciamo oggi, di quello che è l'agricoltura lucana, di come viene sostenuta e soprattutto questi dati e informazioni sono molto utili, saranno molto utili per definire le politiche in futuro, quelle legate ai fondi europei. Un dato che manca dal passato, e io da tre anni rivendico l'utilità, avendo io stesso sperimentato, grazie all'Alsia, nel comparto del nocciolo, l'importanza di una carta vocazionale, una carta vocazionale che rappresenta esattamente la mappa delle vocazioni agricole della Basilicata. Non c'è mai stata in questa regione, abbiamo sperimentato nella passata legislatura, grazie a Ferrero, grazie all'Alsia, grazie all'università, la redazione di una carta vocazionale sul nocciolo, quando questo era il presupposto per il quale Ferrero faceva partire la filiera in Basilicata. Alsia sa benissimo di che cosa parliamo e sa benissimo dell'utilità, quella mappa è digitale, è fornita agli agricoltori, tutti possono vedere, con il proprio indicando i propri fogli e particella, se stanno in un territorio in cui il nocciolo può essere una possibilità o meno. Stessa modalità avevo auspicato, e stessa attenzione avevo auspicato che in questi anni si potesse replicare sulle altre culture di pregio che abbiamo in questa regione e in generale fare di questo lavoro una mappa vocazionale di tutta l'agricoltura lucana. Questa avrebbe significato, ma non sei mai tardi per partire, avrebbe significato programmare l'utilizzo dei nuovi fondi europei sapendo dove bisogna coltivare per avere una migliore efficacia. Purtroppo in Basilicata nel passato, e il passato diciamo sempre per buttarla in politica ci ha visto i protagonisti, ha sempre programmato affari spenti. Io l'ho sempre detto, il sistema informativo da una parte e la carta vocazionale dall'altra avrebbero rappresentato la grande riforma dell'agricoltura in Basilicata, che attraverso i fondi europei e i fondi di bilancio, fondi delle compensazioni, quelli destinati all'agricoltura, avrebbero potuto vivere un tempo dell'efficienza e della consapevolezza dell'investimento. Anche in questo argomento, per il quarto anno consecutivo, in coincidenza del bilancio dell'Alsia, lo dico chiaramente inascoltato. Ed è una cosa sulla cui mi dispiace, lo dico all'assessore, perché colga quest'occasione non perché io voglia fare il professore, ma per l'esperienza passata posso passare delle informazioni, delle raccomandazioni. Se poi saranno colte, bene. Se non saranno colte, me ne farò una ragione. Servirà per la prossima campagna elettorale. Una cosa su cui avrebbe potuto lavorare l'Alsia, per esempio, l'ho anche detto al direttore, è la questione di poter valutare, lo dico questo al dipartimento, all'assessore, se l'Alsia può diventare, questo sarebbe una grande novità, assessore Cupparo, se l'Alsia potesse diventare la nuova programmazione soggetto beneficiario diretto dei fondi europei. Lei deve sapere, assessore, ma non perché non è da molti mesi che è nel campo e alcune informazioni sono anche magari di dettaglio, ma poi se queste cose le sa, bene. Io voglio solo trasferire un'informazione. L'Alsia non è un soggetto che può essere direttamente interessato da finanza specifica a valere sui fondi europei. Quindi viene sempre indicata come soggetto attuatore di alcuni aspetti delle politiche, per esempio della ricerca, come l'abbiamo coinvolto noi nei progetti di ricerca a valere sui fondi europei. Lì l'abbiamo coinvolta, l'abbiamo tirata dentro e l'abbiamo affidato il compito della divulgazione, che è il compito dell'Alsia. Si potrebbe lavorare su due argomenti, lo dico all'assessore. Uno perché l'agenzia possa diventare un soggetto beneficiario, così come soggetto beneficiario potrebbe essere in un'interlocuzione con la comunità europea, far diventare destinatari le scuole, le scuole agrarie. Purtroppo le scuole, pur se hanno le aziende, pur se fanno i campi sperimentali, così come ce li ha l'Alsia, ma non sono destinatari di finanza dedicata. Quindi dai fondi europei non si può tirare fuori una lira. Se noi riuscissimo a fare un lavoro, insieme alle altre all'inizio della programmazione, perché quando una programmazione è partita non puoi fare più niente, quindi la risposta me la do da solo. Quando c'è invece una programmazione che deve partire, si può fare un lavoro. Tra l'altro la rete delle scuole nazionali agrarie aveva cominciato un interlocuzione. Nell'obiettivo di far diventare l'Alsia e le scuole agrarie beneficiari diretti come i comuni della finanza europea, voi vi rendete conto che cosa significerebbe. Significerebbe che alle scuole, così come all'agenzia, noi avremmo finanza europea da poter destinare per fare le proprie attività di formazione e di divulgazione. Questo lo dico, chiaramente questo c'entra poco col bilancio dell'Alsia, ma c'entra con l'attività in futuro che può interessare il Dipartimento. Questo è il contributo che avrei e che voglio dare alla discussione perché ogni volta si possa accogliere l'occasione di questi atti importanti di programmazione per poter dare un contributo e migliorare l'azione. Lo faccio solo ed esclusivamente in questa modalità. Operazioni, per esempio, come le digital farm che l'Alsia aveva messo in campo, cioè fare dell'Alsia dei campi sperimentali sull'agricoltura 4.0, chiaramente se non hanno finanza dedicata extra quella ordinaria è difficile che possano anche fare questo a beneficio delle aziende private. Quindi ecco perché trovare finanza aggiuntiva o da bilancio e non ce n'è, o da fondi europei potrebbe essere una strada. Io, diciamo, è a questo il contributo che volevo dare, chiaramente non condividendo i contenuti di questo bilancio che non rispondono alle aspettative, ritengo e all'ambizione che un'agenzia come l'Alsia deve fare, voterò chiaramente contro.